Pronti? 18 giugno 2024, lo abbiamo ricordato a più riprese, oggi è la giornata internazionale dell'enogastronomia sostenibile, quindi non sorprende se ci siamo focalizzati sul tema della gastronomia, dell'alimentazione. E chiudiamo in bellezza, è il caso di dire, perché abbiamo con noi, ci ha raggiunto nei nostri studi, come vi anticipavo, Antonio Cera di Forno San Marco, che ormai da diversi anni organizza sul nostro territorio un evento di straordinaria importanza dal titolo Grani Futuri. Buongiorno Antonio, ben trovato. Buongiorno Tony, buongiorno a tutti. Abbiamo tante cose da dirci, per fortuna il tempo non mancherà, io voglio partire da una considerazione importante. In un'epoca, in un'economia basata ormai sul superfluo, tu hai avuto la straordinaria intuizione di concentrarti su un bene essenziale, il pane, questo prodotto della terra, del lavoro dell'uomo, che ci riporta anche all'autenticità del rapporto con la gastronomia, con il cibo, con l'alimentazione e ovviamente sei un fornaio, quindi era abbastanza naturale la cosa, ma non è stato sicuramente scontato, non è affatto scontata la tua capacità di valorizzare un prodotto che in quell'economia del superfluo di cui parlavo prima è quasi scomparso dalle nostre tavole. Come ho detto tante volte, il mio sogno era creare valore nella mia terra. Grani Futuri è l'evoluzione, quindi è un mondo di relazioni, è il pane delle relazioni, accogliere fornai, chef, pasticceri, pizzaioli, ma non solo artisti, scrittori, letterati, provenienti da tutto il mondo e condividere con loro un pezzo di strada, cioè il pane. Quest'anno il claim è il fattore S. Ci arriviamo subito, ci arriviamo fra un attimo. Intanto la regia ci sta già mostrando la locandina di questa sesta edizione, il cui titolo, come anticipavi tu, è il fattore S. Grani Futuri però si basa su un manifesto, un'altra intuizione pazzesca. Il manifesto futurista del pane. Esattamente. Diciamo che sono undici punti, quindi non è un decalogo, un decalogo bensì undici punti, che trattano da come fare agricoltura a come conservare il pane. Ma l'undicesimo punto dice che il pane è un atto magico. E quindi è quella magia che può portare ad aggregare popoli, pensieri e che stratifica ogni classe sociale. Cioè, scusami, appiattisce ogni classe sociale. Il pane è democratico, intanto grazie all'aiuto della regia di Giulio Russo e Roberto Viscio stiamo vedendo anche il sito ufficiale di Grani Futuri e sia sul sito che sui social potete seguire Antonio Cera e l'evento e scoprire anche punto per punto il manifesto, che poi mi piace perché è essenziale. Questi punti sono molto importanti, ma anche assolutamente metabolizzabili. Perché oggi forse la grande capacità delle persone come te è quella di restituirci dei valori primordiali in maniera semplice. Sì, credo che sia proprio alla base di tutto, no? Come dire, recuperare il pane e farne un piatto meraviglioso. Ed è così che ogni anno termina appunto l'evento principale di Grani Futuri. perché poi c'è tante ramificazioni. Siamo stati a Parigi, in India, a Nuova Delhi, l'ultima, a Osaka, in Giappone, in Niger, a Niamei. Quindi, diciamo, è una cultura che stiamo dal nostro piccolissimo territorio cercando di portare in tutto il mondo e cercando di portare il mondo qui. Ed è fantastico tutto questo. Quindi, torniamo all'edizione di quest'anno. Il programma è stato già diffuso sul sito e sui canali social di Grani Futuri che vi invitiamo a seguire. Perché questa sesta edizione porta questo titolo, il fattore S? È che, come dice il titolo, la semplicità del pane sostenibile regava un sorriso. Quindi sono tre S, semplicità, sostenibile e sorriso. E abbiamo deciso di creare, appunto, un'edizione a colori. Un'edizione aperta a tutti. Quindi potranno venire in quella che sarà la sede nel corso degli anni. Si spera per decenni e decenni di Grani Futuri, che è questa meravigliosa oasi dove c'è il convento di Santa Maria di Stignano a San Marco e Lamis e dove tutte le attività saranno aperte e libere al pubblico e ce ne saranno una marea, basta guardare il programma e poi si terminerà con la cena di pane. Una cena, anche questa, un'intuizione davvero bella perché in un'epoca in cui si sprecano i menù tu sei tornato anche qui all'Essenziale con una cena di pane. In cosa consiste? Perché è così importante questa cena di pane? Allora, la cena di pane, intanto, credo che sia un momento conviviale, meraviglioso, che accoglie chef provenienti da ogni dove di caratura veramente alta. Salvatore Tassa, che viene da Lazio, Enrico Recanati da Loreto, col suo ristorante Andreina, Davila Cimbrone, Lorenzo Montoro, poi abbiamo Tiziano Mita, che è il pastri-chef di Borgo Ignazia, quindi dei due camini. Avremo anche attori importantissimi locali, come Domenico Cilenti, col suo ristorante Porta di Basso a Peschici, Peppe Zullo e Pietro Zito, due icone della nostra Puglia, Luigi Nardella, col suo meraviglioso ristorante di terra a Montaratro, e poi, per terminare, con Igino Pinagiolli, che farà anche lui, valorizzerà il gelato con il pane. Un gelato di pane. E i piatti saranno, la meravigliosa cosa è che ci saranno piatti da condivisione, come una volta, colorati, quindi ci sarà la semplicità del pane, il sorriso regalato dai colori per quello che viene realizzato, e la sostenibilità, perché tutto verrà realizzato in maniera da non sprecare praticamente nulla. E questo è importantissimo, tanto ricordarlo oggi, Giornata Mondiale della Gastronomia, sostenibile, quanto più in generale, perché sappiamo tutti il momento storico che stiamo vivendo, molto particolare, legato ai cambiamenti climatici, e appunto quanto sia importante tutelare il nostro ambiente, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, come quelli di cui ci stavi parlando tu. E volevo aggiungere una cosa importante, che proprio nel luogo dove si terrà il tutto, cioè noi stiamo, io sono arrivato due anni fa, l'ho presa, questa zona, era una discarica, abbiamo buttato oltre 27 container di immondizia, e poi si vedevano solo 20 alberi d'ulivo, una zona piena di rovi, di tutto. Poi il mio grande braccio destro, Marietto, alla sua tenere età di 73 anni, ha iniziato a infilarsi tra le mangrovie quasi, quasi, del posto, e ha detto tu, lì ci abbiamo 700 alberi d'ulivo. Dico no. E in effetti è vero, noi abbiamo riportato alla vita 700 alberi d'ulivo che raccontano la loro storia. Dopo aver sofferto sono tornati alla luce, così come tanti alberi, il melo, il pero, il ciliegio, tutti i selvatici, che ora piano piano stiamo innestando e gli stiamo ridando nuova vita. E abbiamo censito 208 piante. Che bello, un orto botanico a cielo aperto, un motivo in più per venire al convento di Stignano, a due passi da San Marco Illamis e sul Gargano, dal 21 al 23 giugno, per partecipare alla sesta edizione di Grani Futuri. Antonio, io ti ringrazio di cuore per, non solo per essere qui, ma proprio per questa tua testimonianza concreta dell'amore che hai per il tuo territorio, la sua storia, l'importanza della enogastronomia, della gastronomia sostenibile, che appunto prende forma in questi tuoi progetti. Mi piacerebbe concludere con quella foto bella che ti ritrae insieme alla tua mamma e alle tue zie, che poi sono le radici che ti hanno messo le ali. Tu sei un bocconiano e con questo legame tra passato e presente ci stai preparando un futuro meraviglioso. Ce lo auguriamo. Intanto vi lascio, condivido con voi un pezzetto di pane. Grazie. Un pezzetto della mia strada e della strada di tutti quelli che faranno parte di Grani Futuri e che ne hanno fatto già parte. Accettiamo con gioia e ti auguriamo un buon lavoro. A te e a tutto il tuo staff. Tra l'altro ecco, tante le cose da dire. vedevo accanto al pane la maglietta di Grani Futuri di quest'anno e il libro del Gambero Rosso. Solo ieri tornavi da Roma con i tre pani che hai ricevuto appunto dal Gambero Rosso a testimonianza della qualità, dell'importanza del lavoro che fai. Beh, è stata una forte emozione e soprattutto credo che un territorio, il Tavoliere delle Puglie, il Granale d'Italia, meriti in futuro di arrivare ad avere tanti tre pani. Che bello. Grazie. Grazie Antonio anche per questa tua visione di insieme. Allora ancora buon lavoro, buoni Grani Futuri e a risentirci a presto. Grazie mille. A voi.